Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e qui è Marco Lino E ben ritrovati nel canale ragazzi miei e ben ritrovati con questo nuovo video dove andremo a parlare finalmente del Jurassic Park Marco, sarà dura, sarà dura questo video Sarà difficilissimo più che altro, vabbè andiamo avanti poi se vediamo Allora, come vedete abbiamo cambiato location perché volevo mettere il nostro Marco in camera dato che come sapete lui sta a Firenze quindi insomma per poter fare questa cosa insieme dovevamo per forza attrezzarci diversamente Allora, vabbè ragazzi, noi innanzitutto prima di iniziare vi vogliamo lasciare un grossissimo pollicione all'insumo mi raccomando iscrivetevi al canale inoltre vi ricordiamo che sopra vi lasciamo la playlist dove potete trovare tutti i video che faremo insomma in questo filone dei film quindi quando andremo a vedere qualche film insieme lo vogliamo commentare, vi vogliamo raccontare insomma se ci è piaciuto o no peraltro Marco devo dire che in tanti mi hanno già chiesto se mi è piaciuto Jurassic Park o no capito? E tu che gli hai risposto? È che non mi è piaciuto per niente sono stato sincero Comunque detto questo Allora Marco tu mi avevi suggerito una cosa che secondo me è intelligente di fare un rapido cappello diciamo del film Allora innanzitutto fermi tutti dobbiamo dire che questo è spoiler sarà un video assolutamente spoiler quindi non proseguite se non avete visto il film ovviamente proseguite se l'avete fatto Allora quindi stavo dicendo dobbiamo fare un filone raccontiamo più o meno il film di che parla ok? Quali sono le cose generali dopodiché andiamo un pochetto ad analizzare il film Ma molto velocemente molto velocemente Marco io penso di poter dire semplicemente che il film sono come due spezzoni che proseguono nella stessa direzione i vecchi personaggi e i nuovi personaggi no? Cioè i vecchi personaggi che seguono questa scia delle cavallette preistoriche che si mangiano solo il grano che non viene prodotto da quella ditta Sì sono locuste Esatto locuste mentre invece l'altro filone che secondo me è quello che regge un po' di più di tutto il film sono i nuovi personaggi che cercano di proteggere Blu e la bambina clone giusto? Sì 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 Ok Questo è qua Allora aspetta il fulco principale che era quello che ti dicevo poi io ieri è che la bambina clone alla fine del precedente film ha liberato i dinosauri quindi i dinosauri sono liberi nel mondo questa qua è Esatto Esatto questa è una cosa importante Vedremo spessori di dinosauri che vanno in giro nel proprio in mezzo alle macchine nelle foreste e interagiscono sia con uomini che con animali Anzi si adattano proprio a vivere insieme agli animali Sì sì Allora io con Manu abbiamo dato una cosa generale una linea generale nel senso un'impressione generale del film che la mia è assolutamente negativa Marco non mi è piaciuto per niente Ma è stata una cosa così brutta Ale Una delle cose più brutte Dobbiamo fare una piccola premessa anche ne abbiamo fatte tante delle premesse ma io e Marco con il Jurassic Park ci siamo quasi cresciuti la prima volta che sono andato al cinema andavo alla scuola a vedere il Jurassic Park Marco anche per te Marco è stato uno dei primi film che hai visto è stato proprio amore a prima vista noi siamo cresciuti con il Jurassic Park quindi c'è un'affezione particolare Io voglio farlo paleontologo pensa tu dopo aver visto il Jurassic Park Il fatto qual è? I Jurassic World che sono usciti che non sono stati di film spettacolari sicuramente mai come il primo però quantomeno hanno tenuto una logica hanno tenuto poi ti devo dire anche un'altra cosa io ho rivalutato anche tanto questo fatto dei dinosauri ibridi non mi era piaciuto inizialmente vero quando poi se uno si mette là a fare una riflessione anche i dinosauri di Jurassic Park erano ibridi perché diceva che il DNA non era completo veniva completato con le rane con calamari cioè così ok quindi comunque si i dinosauri che noi vedevamo nel Jurassic Park non erano i dinosauri originali erano i dinosauri comunque ibridi quindi se adesso noi facciamo l'ibrido fra il T-Rex e il Velociraptor o fra il T-Rex e il Calamaro che cambia fondamentalmente ci postano certo quindi diciamo che sotto questo punto di vista io la saga del Jurassic World l'avevo quasi rivalutata va bene sto film Marco è brutto secondo me sotto tutti i punti di vista allora prima cosa secondo me gli attori vecchi sono stati aggiunti solo perché sono loro perché la storia loro non mi è piaciuta tanto cioè al di là del fatto che loro vanno a cercare sta cosa delle locuste ma il modo in cui arrivano in questa nuova sede e si infiltrano con una facilità che sembra quasi sembra quasi che quelli lo stanno facendo apposta e vabbè banale banalissimo tutto il comportamento dei dinosauri è pessimo non mi è piaciuto le comparsate dei dinosauri cioè quello rosso che entra nel ghiaccio se vede due secondi e sparisce come si chiamano quelli sotto alla grotta come si chiamano Marco dovrebbero messi i dimetrodonti dimetrodonti quelli sembrano quelli di Mirabilandia che tu vai in giro col carrelletto esce fuori il dinosauro di Mirabilandia che fa ma l'hanno pensato in molti questa cosa pessimo giganotosauro che doveva essere cattivo per forza e viene poi si schierano tutti contro di lui la battaglia finale è una cosa proprio di pessimo non serviva non serviva e l'apice secondo me della bruttezza è stato raggiunto con le cavallette di fuoco cioè io lì ho detto ma questo che cos'è qualcuno che gioca a Diablo conosce quella spella diciamo sì perché se giocate a Diablo ragazzi c'è Witch Doctor che fa una spella che si chiama pipistrelli di fuoco e sembrava quella là io capisco che il Witch Doctor a Diablo fa pipistrelli di fuoco ma Jurassic Park mi sembra un po' strano quindi per me il film è pessimo sotto tutti i punti di vista ma io Marco ti voglio lasciare spazio a te dimmi che cosa ne pensi tu quantomeno vuoi so le parti che ti hanno lasciato un po' allora partiamo dal presupposto che secondo me è stato fatto c'errore proprio a livello di uno montaggio sono delle parti che non tornano come se fossero state tagliate delle parti perché magari era troppo stava diventando troppo lungo e quindi dovevano accorciare un po' la cosa a me non piace poi lo spessore dei personaggi che è una cosa importante cioè Grant è totalmente ragazzi un paleontologo famosissimo che scriveva libri cioè veramente scusate te lo dico però cioè lui rimane dentro a questa storia semplicemente perché è innamorato della dottoressa e vuole seguire la dottoressa è un po' in balia degli eventi non c'è una battuta seria non fa niente cioè l'unico spessore dei vecchi personaggi ce l'ha la dottoressa che adesso mi ricordo il nome la professoressa Sattler sì lei c'è un po' più di spessore che banalmente banalmente scopre che le locuste non mangiavano il grano degli altri cioè nel ventunesimo secolo ventidulesimo quello che sia ventunesimo ci rendiamo quanto è banale questa cosa loro quelli della bio farm si chiamavano biostar sì una cosa del genere lei si affaccia con questa storia sempre questa scena che strizza l'occhio al passato i primi Jurassic Park lei che è scioccolata la macchina si affaccia questa è un'altra cosa pessima e guarda vede le locuste e vede il campo del vicino e dice oh ragazzi ma qui c'è un problema di chi è perché non lo hanno mangiato e quelli sono i semi di loro ragazzi banale banalissimo ma roba che una cosa del genere l'avrebbero arrestati subito perché era palese ma a parte che era palese questa cosa è palesemente come dici te Ale è un film per bambini ma veramente comunque guarda mi riaggancio tanto a questa cosa che hai detto perché ne abbiamo parlato anche con Manu nel video recensione che abbiamo fatto qualche giorno fa peraltro ve lo lasciamo qua sopra i Top Gun andatela a recuperare se non l'avete fatto del problema che quando fanno dei sequel vanno a ricalcare il film vecchio ora io lo capisco l'omaggio a chi ha visto i primi film ma non può essere un sempre ricalcare qualsiasi cosa cioè il momento che la professoressa Sattler raggiunge Grant è palesemente in cui Hammond va a trovarli nel primo film ma anche il viaggio in aereo sembra il viaggio in elicottero cioè nel senso praticamente identico anche la morte che fa il tizio che poi viene chiamato Dodson che poi abbiamo visto che non è neanche l'attore che ha fatto Dodson vabbè e muore quei tilofusauri esattamente come Nedry anzi prende proprio il Barbasol il titolo di live era chiamata quando prende il Barbasol l'ho detto vabbè questo muore sicuramente quei tilofusauri perché lui è Dodson anche quei ragazzi ah ok è Dodson quindi l'attore è cambiato però Dodson per chi non se lo ricorda ragazzi Dodson sarebbe colui che commissiona a Nedry il furto del DNA quindi è colui che consegna il Barbasol a Nedry ci si infatti c'è lui c'è il Barbasol tra l'altro ritrovato dove come quando non si sa perché quello è che è inizio nella foresta non si sa comunque però vabbè comunque a parte tutto questo spessore dei personaggi quindi c'è mi sento molto preso in giro perché hanno messo i personaggi vecchi tirati dentro e tu dici a cosa servono questi poi un'altra cosa io ti devo dire dimmi dimmi ti devo dire che ero molto più preoccupato io paradossalmente quando ho visto i trailer della parte dei nuovi personaggi perché ho visto i dinosauri che camminavano nella città ho visto cose un po' ho detto Blu che aveva fatto un piccolo in realtà poi mi sono accorto che alla fine fondamentalmente fra tutto il mare di schifezzeria che hanno fatto quella parte lì è quella che regge pure di più sì effettivamente è che è la parte diciamo un po' più che c'è un po' più senso cioè possiamo dire che forse se il film fosse stato incentrato solo sui nuovi personaggi forse sarebbe stato migliore ma non lo so perché pure là ci sono delle cale del stile cioè la bionda parliamo della bionda io non mi ricordo chiama io quella l'ho vista 350 milioni di volte nei film la bionda con il mascellone che è quella che porta i atrociraptor sì che tra l'altro si chiamano veramente così comunque a parte quello cioè che porta gli atrociraptor e c'è la scena che gli dice ferma con la pistola puntata e lei con il laser dietro la testa con lo sguardo quarantino che spinge il laser e che punta sul ragazzi cioè dei momenti di una bassezza epocale l'attore di Lupin ed è un altro film molto importante della serie di Netflix di Lupin ma che cosa fa non lo so non c'è spessore di personaggi tirati dentro come dicevi i dinosauri scomparsi fanno una cosa non c'è più spessore com'è entrata a che serve quel personaggio la cosa bella del Jurassic Park è che ogni dinosauro che veniva aggiunto in un film aveva un suo spessore aveva un suo ruolo veniva presentato dopodiché si mostrava e aveva un senso ma anche nell'ultimo questi dinosauri sì sì assolutamente sì questi dinosauri buttati lì così allora io mi sono segnato il Terizinosaurus no? che ne abbiamo rinominato colui che dà gli schiaffi lo Sberlasauri allora primo io lo sono andato a cercare era erbivore e non carnivoro quindi fondamentalmente possiamo giustificare il fatto che dà una pizza senza motivo al cervo va bene non giustifichiamo il cervo che rimane lì comunque va bene no possiamo giustificare il fatto che cerca di cacciare la prostressa Sattler perché magari anche l'orso o anche il cinghiale caccia se ha dei piccoli ti aggredisce no? penso sia più territoriale comunque sì va bene va bene ma il duetto col T-Rex che distrugge il giganotosauro che senso ha? peraltro come ti dicevo Marco è erbivoro quindi non avrebbe avuto mai modo e mai motivo di attaccare un carnivoro ma vabbè le unghie lunghe che vengono utilizzate dai schiaffi erano delle unghie fragili che utilizzavano per prendere le foglie quindi pure questo fatto che è stato fatto diventare Edward mani di forbice io non l'ho capito ma poi allora la parte finale allora non c'è senso Ale per un motivo molto importante nei vecchi film il dinosaurio malvagio è costruito come proprio il personaggio malvagio della storia come se fosse Darth Vener come se fosse un altro personaggio quindi che succede che durante tutta la storia vedi il suo percorso la sua nascita la sua crescita ed è caratterizzato da questo e soprattutto serve a dare importanza al personaggio questo gigantosauro il gigantosauro il gigantosauro il gigantosauro che è buttato alla mano il combattimento finale è assolutamente fan service ma perché perché non è dato spessore a questo cioè perché dovrebbero ucciderlo infatti noi questa domanda ce la siamo fatta anche in Jurassic World magari qualcuno che ci segue ci può dire vabbè però in Jurassic World c'è stata la stessa cosa allora prima cosa non è che ci è piaciuta tantissimo pure quella non è che quella la giustifiamo però quantomeno l'indominus poteva essere visto dagli altri dinosauri come un animale strano ok quello era un mix di tutto poteva essere visto come una minaccia ma il giganodosauro puraccio ma che male ha fatto ma poi Marco ma vogliamo parlare quando gli hanno sparato la cavalletta nella bocca che spara a fuoco ma perché ma non lo so non lo so quando il protagonista prende per il collo il dilophosauro c'è stato un momento che ho detto ma forse questi ci stanno a piangere cioè forse questa è la parte scherzosa adesso esce fuori scherzi a parte e poi ci fanno e poi ci fanno vedere Jurassic World perché questo quando prende il collo il dilophosauro cioè la presa Ux ragazzi quello è uno dei momenti più bassi della storia del cinema ragazzi veramente è una cosa una cosa tristissima brutta brutta comunque vabbè diciamo principalmente che succede dopo quando si sposta pure la ragazza di colore che viene inserita all'interno della storia che è quella inutile nel senso il figlio di blu perché inutile il figlio di blu ma pure pure povero lui poteva essere anche carina come storia poteva essere anche carina come idea molto bella ma a che serviva niente cioè se rapivano soltanto la bambina perché era una similitudine con la bambina essenzialmente perché era stato cioè blu è stata messa semplicemente perché dobbiamo farci i pupazzi sopra dai diciamola questa cosa poi l'abbiamo detta perché l'unica cosa a cui io salvo questo film Marco è per quanto riguarda il merchandising e per quanto riguarda magari i futuri giochi perché ad esempio tu sai mi piaceva tanto il Jurassic World quello che devi costruire il parco e giocare con l'Indominus con l'Indoraptor magari adesso con il Giganotosauro peraltro il Giganotosauro già c'era ma vabbè però magari ecco giocare con blu e tutte queste altre cose ci sta è bello mentre invece per tutto il resto non ha alcun tipo di senso anche a livello di giocattoli abbiamo visto dei giocattoli ai miei coazzi stanno uscendo i giocattoli nuovi dei nuovi dinosauri sono belli da vedere effettivamente ma è solo per questo che sono stati aggiunti perché nel film non hanno alcun tipo di senso no no assolutamente no comunque quello che manca essenzialmente nel film è veramente spessore io ti voglio dire mi sembra poi magari faremo pure un video su Stranger Things adesso che ci penso Ale questo perché comunque ci è piaciuto veramente tanto tanto quanto spessore ha accumulato Stranger Things con quest'ultima serie che tra l'altro ancora non è finita speriamo che non facciano stupitaggini perché ha accumulato spessore col cattivo per il cibo il cattivo vale ma questa è una cosa che noi ci siamo sempre detti e che io ci ho sempre detto il cattivo è l'80% della storia dove c'è un cattivo bello c'è una storia bella dove il cattivo è a spessore con gli intrecci di drama con l'importanza che dai al personaggio tutto molto banale infatti secondo me ragazzi io questa la butto là questo Jurassic Park ragazzi secondo me è un esperimento sociale ve lo dico 100% stanno a vedere che cosa riusciamo a digerire sinceramente e ti dico che faranno un'altra trilogia ho visto tante critiche comunque non ho visto ti dico che io sono nato al cinema è venuto pure un mio amico col figlio di 8 8 9 anni ha detto mi sono annoiato e mi dice se sono annoiati loro non lo so vabbè comunque veramente veramente pesante è una presa molto in giro non puoi distruggere un brand così oppure fare un film tanto per farlo non lo so non esiste non lo so che dirti sicuramente è economico il motivo il film comunque si vende da solo si chiama Jurassic Park noi ci andiamo a prescindere come noi sa quante altre persone Jurassic Park lo andiamo a vedere e quindi loro i soldi li hanno fatti il merchandising i soldi li faranno appalate però il film con mano abbiamo dato un voto alla fine questo film è da 2 salvo salvo soltanto la comparsata dei vecchi attori che comunque tra l'altro sono pure attori di spessore ma io se ero loro gli dicevo ma io non lo faccio sto film comunque va bene e poi voglio dare 2 non 0 per diciamo tutto quello che può esserci indietro con il merchandising che come ci siamo detti secondo me può essere vincente andiamo comunque come si dice ai ragazzi della CGI in alcuni momenti hanno pure secondo me toccato un po' bassi molto bassi non è fatto tutto molto bene ci sono dei momenti dove si vede che andavano di fretta e quindi la CGI tocca veramente livelli bassi però il 2 io lo do per gli effetti speciali perché sennò era 0 quindi pure tu confermi 2 anche tu ma 2 2 di speranza nel senso 2 sperando che il prossimo impegno perché sennò devi ritenere di proprio 0 se è così io spero che non lo fanno più se è così va bene da quello che ho letto online magari dobbiamo capire se le fonti sono valide ci sono altri 3 film vabbè e anche pure un'altra cosa la campagna io ti do 1 ti do 1 se non 0 perché la campagna iniziale che è stata fatta per accalappiarci al cinema il tirannosauro che va che tutto l'inseguimento del film non so se tu l'hai visto l'inseguimento è stato importato dell'eclipto quella al cinema no? che non esisteva nel film che poi nel cinema non sono state inserite tutte queste cose quelle sono le classiche prese in giro queste cose le fa Game Freak dei Pokémon si ti mette qualcosa che non esiste si si oppure ti dice una cosa che non esiste hai capito? vai a giocare con tutti i tuoi amici tranquillo poi giochi da suoi cioè nel senso comunque voto basso comunque Marco io la riflessione finale poi per chiudere la volevo fare su questo noi a 8 anni siamo andati al cinema abbiamo visto il Jurassic Park di Steven Spielberg i bambini di oggi a 8 anni hanno visto Jurassic World Dominion momento triste momento triste momento triste momento triste perché triste comunque ti devo di una cosa secondo me il Jurassic Park se tu te lo guardi adesso in Blu-ray il T-Rex la scena del breakout che esce fuori dal recinto è fatta benissimo è meglio del Giganotosauro che gira intorno a quella stanza lì tremendo molto meglio il T-Rex a livello proprio visivo secondo me è meglio quindi lo devo guardare non lo devo andare a rivedere 25 anni dopo dirmi se secondo te non è meglio quello di 25 anni fa o forse pure 30 anni fa è uscito nel 94 quasi 30 quasi 30 30 anni fa comunque Ale spero che ci saranno dei film migliori più che altro che ci brucia magari i bambini non magari riescono con il cerchio il bambino va bene però Marco penso che chiunque non sia un bambino che è da 16 anni in su e se va vede sto film secondo me ti dice sto film non si può guardare dove può essere salvato facciamo una cosa tanto abbiamo aperto la rubrica film ok stiliamo la top 3 e piano piano la stileremo da questo momento in poi stiliamo proprio the baddest cioè proprio i peggiori i peggiori i peggiori quindi c'è qui a lui tu mi dici sempre Alien Comerant beh Alien Comerant è brutto eh però per adesso facciamo che la stiliamo da questo momento in poi cioè lui è top peggiore della nostra classifica della rubrica sì assolutamente ma probabilmente sarà proprio uno di quelli che stabilisce lo standard il primo Jurassic Park Dominion nel top sì perché non può esserci cosa più brutta cioè non ci può essere cosa più brutta probabilmente sì vabbè Marco abbiamo fatto un bel po' abbiamo chiacchierato un pochino tanto quindi mi raccomando ragazzi fateci sapere che cosa ne pensate perché comunque ci interessa sempre tantissimo lasciateci un bel commentino qui sotto noi ci rivediamo prossimamente vediamo un po' se magari possiamo fare Stranger Things o comunque qualsiasi altro film che vediamo che insomma ci piace dirvi la nostra e parlarne insieme a voi Stranger Things merita il primo e il dopo perché sì vabbò qui da Visio e da Marco è davvero tutto noi vi mandiamo un grosso saluto ciao ciao ciao